Perciò ci siamo un vero po' più avanti, capelli Che buon Deodorante Ciao Ma hai sentito parlare di punti neri? Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi Oggi voglio fare un video antipatico, diciamo così Un robole antipatico, ne ho fatto solo un altro e ve lo lascio qui Se vi piace questa tipologia di video E questo robole è particolarmente ispirato a una serie che sto amando Ad Agribetti E interpreterò una specie di Amanda Molto Amanda E quindi spero vi piace ovviamente È tutta recitazione, è tutta finzione Non siate così nella vita reale Siete carini, siete gentili con il prossimo il più possibile E niente, spero davvero che questo video possa essere comunque rilassante E divertente Quindi cominciamo subito Cominciamo subito Cominciamo subito E Sì, ho andato a stella ragazza ieri sera veramente secondo me è caduto ai miei piedi mi ha aperto la cena in quello che è super costoso già, potrei dare un'altra possibilità, non credi? Sì, magari la prossima volta vi fanno i regalini, un braccio petto, un cellino, sai qualcosa? ho visto un cellulo di bulgare che è it's time for hai visto questo? non ti ho visto questo? mi sta venendo qui? mi sta venendo qui? sei qui per il prima e dopo? sei qui per gli scatti del prima e dopo? sei qui per gli scatti del prima e dopo? stai portando qualcosa? stai portando del cibo? no, no, e noi non mangiamo la pizza al piano superiore forse non noi non mangiamo carboidrati mi stai portando sto portando? che sa portando? non capito? mi sto guardando? ehm lavori qui? un nuovo assistente del direttore da dove vieni? dove hai lavorato? che esperienza hai? divertente mi è stato detto che non avevo abbastanza esperienza e ho lavorato quattro anni qui alla vita, magari hanno visto qualcosa in te di diverso sicuramente allora si, sei un po' di tardi di solito l'assistenza deve arrivare prima e il direttore si, fai in modo che non succeda mai più bene tu ok, già fatto ecco, mi ha tutti i moduli ok? devo farti una foto per il bed d'accordo sorridi anzi no, forse non sorridere io provo un po' via destra no d'accordo sinistra vuoi toglierti gli occhiali? ascolta, io non posso fare un pass così ok, allora non sorridere quello dei capelli un po' indietro no anzi anzi davanti davanti bene davanti così ok ancora più avanti ok poi ci siamo un po' più avanti i capelli ok 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 perfetto no, non ti preoccupare sei andato benissimo se si spisiveva certo benissimo quasi riconoscibile esatto 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 devo semplicemente prenderti le misure mmm sì, nel caso insomma tu debba prendere le visite al magazzino anche se dubito cosa porti o no? corretta due mi dispiace sì ah sì non penso ci sarà occasione per te di prendere qualcosa in magazzino comunque non si sa e dobbiamo comunque andare alle misure sì aspetta un attimo lì ok e riuscito a riuscito a riuscito subito ma che fammi chiedere Marco no 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 questa la devi vedere e si richiama Marco Margo non puoi non puoi capire che cosa me l'ho visto no 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 è arrivata la nuova assistente il direttore tu non hai capito non hai capito di che cosa si tratta la devi vedere la devi vedere ha una 42 si non che è uno stile veramente che non era più di moda ci divertiremo così tanto con lei non doveva neanche un giorno ok ok anche io non te la vado da fare vai che sesso vieni pure qui cara si allora lasciamo avvicinare un attimo che buon teodorante vuoi sentire il mio profumo? si vai te lo faccio sentire lo stesso questo è il profumo dell'anno è la tutta la nostra rivista è Lancôme la via belle un rose tentamento da Parigi che rispetto giusto un pochino ok si 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 giusto un pochino no non tossire è buono respira respira buono eh grazie allora allora quindi devo misurare no non ti preoccupare magari ti tolgo 1 2 cm si magari li puoi perdere per quanto riguarda l'altezza direi si tocco almeno 16 no no 18b2 allora guardiamo quindi l'altezza sì almeno tocco 17 decisamente allora questo naso ti posso consigliare un buon dottore città si 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 ciao ciao poi qui mai sento parlare di punti neri? no ok all'imbraccia il premaglione mercatino dell'osato no non ci vado non ci vado grazie eccoci ok la vita non so se mi basterà il metro ok no no non ti preoccupare incollo adesso adesso le gambe l'altra è una gamba più corta dell'altra ok ok allora direi tacco 17 tacco 18 ok adesso devo misurarti un attimo tutto il viso d'accordo la fronte ok fra gli occhi tra gli occhiali grazie è meglio non vedere che indossare quelli comunque accostentate la labbra la distanza tra i nostri orecchie e sopravciglia conosco anche un monestratista la sai penso che per te lo farebbe anche i grandi ok il collo il mento uno due ecco andiamo tutti insieme ok i menti io cara ho fatto si 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 puoi contare su di me quando avrai bisogno certo ma certo si ora vai puoi contare ma è assurdo non si d'accordo non lo sono pensato no ma è assurdo ciò che lo stavano pensando quando non ho ok 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 metti le bussie 14 ok 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 Grazie a tutti